In primo piano Sul riordino degli enti locali si sono svolte il 3 febbraio, in prima commissione, le audizioni dei rappresentanti delle associazioni dei comuni delle comunità montane e delle loro rappresentanze sindacali. Il confronto sul disegno di legge presentato dalla Giunta e sulla proposta di legge del Partito Democratico si è incentrato sulla gestione associata delle funzioni comunali e sulla trasformazione delle comunità montane in unione di comuni. Si confrontano due correnti di pensiero, c'è un DTL della Giunta che ritiene che la gestione associata vada fatta in ambiti territoriali relativamente piccoli, 3.000 abitanti per le comunità della montagna, collinari e 5.000 per la pianura e un'altra correntina di pensiero che ritiene che invece la Regione debba essere più dirigista e più verticista e imporre ambiti territoriali più ampi. Crediamo che la posizione della Giunta sia la posizione corretta. Dall'incontro con i sindaci dei comuni piemontesi è emerso un apprezzamento per la proposta di legge del Partito Democratico. Il nostro obiettivo è di mettere i comuni nostri, i comuni piemontesi, nelle condizioni di lavorare meglio anche i comuni piccoli. Noi dobbiamo favorire l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni senza obbligare loro a fare delle cose che poi sono insostenibili sui territori. Quindi rispettare i comuni e consentire loro di dare servizi migliori. Il disegno di legge della Giunta regionale è quello che più si confa alle necessità dei piccoli comuni poiché riesce a difendere l'autonomia gestionale e decisionale dei sindaci che devono stabilire come e con chi, gestire in forma associata, ma soprattutto difende l'autonomia dei piccoli comuni, l'identità dei piccoli comuni. L'UNCEMA ha proposto un'operazione molto semplice. I territori che sono già organizzati continuano a gestirsi con la loro organizzazione chiamandosi unioni montane anziché comunità montane e naturalmente potranno modificare in seguito lo statuto. Abbiamo previsto anche delle modalità per la trasformazione delle comunità montane in unioni, ma il punto è trasformazione, non soppressione, annullamento e creazione di un pantano irrisolvibile di procedure amministrative per rimanere come siamo.